E martedì scorso a Milano sono stati presentati i risultati dell'indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti che vivono in Italia, edizione 2024. Un'indagine realizzata annualmente dal Laboratorio Adolescenza e Istituto di Ricerca IARD. Siamo collegati questa mattina con il Presidente di Laboratorio Adolescenza, il Professor Maurizio Tucci. Buongiorno prof, benvenuto. Buongiorno a voi. Adolescenti in una società incerta, che cosa è emerso di interessante in questa indagine? Di interessante sono emerse alcune conferme purtroppo non positive di un trend che stiamo osservando da anni, quindi di una serie di comportamenti a rischio che gli adolescenti adottano sempre più di frequente. Uno, tanto per citare quello dell'abuso di alcol, continua ad aumentare le percentuali di adolescenti che dichiarano di ubriacarsi, ma non occasionalmente, anche ripetutamente, e spesso sotto la pressione del gruppo di amici. Quest'anno in particolare abbiamo registrato un fenomeno che avevamo concordato di trattare anche con la polizia postale, che è quello dell'invio di foto o video intimi o postati sui propri canali social, oppure in percentuale molto più frequente, di inviarli al proprio partner di turno. Con tutti i rischi che questo comporta e che gli adolescenti sono consapevoli in larga maggioranza, però nonostante questo, sostanzialmente dicendo di fidarsi della persona a cui mandano queste immagini, si espongono al rischio, poi tante volte si vede, troppe volte si vede che questa fiducia è mal riposta. Professore, ha parlato di comportamenti a rischio, c'è una parola, anzi ha citato anche la fiducia che gli adolescenti hanno nei loro amici, anche appunto nel compagno della compagna che frequentano in un determinato momento della loro esistenza. Per quanto riguarda la fiducia invece nelle istituzioni, ad esempio, oppure nella famiglia, com'è la situazione oggi degli adolescenti? Ecco, la situazione c'è proprio una divaricazione netta. Gli unici soggetti dei quali gli adolescenti si fidano ampiamente sono la famiglia, quindi i genitori e gli amici. Al di là di questo, se si fa un'eccezione per la categoria dei medici, di cui si fida un'ampia percentuale di adolescenti e soprattutto è una percentuale in aumento rispetto ad un confronto con la stessa domanda posta dieci anni fa, per il resto è proprio veramente un campo di battaglia. Crolla la fiducia negli insegnanti, crolla la fiducia nei sacerdoti, crolla la fiducia nelle forze dell'ordine. Ci sono alcune categorie che rispetto a dieci anni fa salgono di un pochino, sono i magistrati di cui si fila un adolescente su due e paradossalmente salgono anche i nostri colleghi giornalisti che però hanno sempre un livello di fiducia molto basso che si ferma al 25%. Sulla classe politica non ne parliamo, il tasso di fiducia è al 2,9%, dieci anni fa era al 3,3%, quindi proprio fedeli nei secoli nel rimanere dei soggetti di cui nessuno si fila. Se la fiducia nei politici è al 2,9% degli adolescenti, poi immagino quando poi arriveranno all'età in cui possono andare a votare, penso che questa percentuale diminuisca ancora di più, ma poi vedremo. Infatti non vanno a votare, è il problema. Infatti, questo è un altro punto. Sono emersi, non dico delle soluzioni perché questa indagine non credo sia stata redatta per trovare delle soluzioni, però che prospettiva c'è all'orizzonte? Utilizziamo questo termine di prospettiva. Sì, allora, soluzioni certamente da un'analisi di questo tipo non possono arrivare, ma possono arrivare indicazioni su quali sono le criticità maggiori e quindi dove può essere opportuno cercare di fare qualcosa. Intanto voglio dare un dato positivo che riguarda la scuola. Ecco, nonostante una fiducia negli insegnanti sinceramente molto bassa, al di sotto del 50%, però la scuola viene considerata dagli adolescenti un luogo piacevole in cui trascorrere del tempo, oltre che studiare ovviamente. C'è anche un altro dato positivo che la maggioranza ritiene di essere giudicato attraverso i voti dagli insegnanti in modo adeguato, comunque coerente con quello che sono il loro stesso giudizio nei confronti del loro rendimento. La scuola la vorrebbero un po' diversa, però la vorrebbero più aperta a parlare di argomenti in maniera non spot, in maniera sistematica, degli argomenti che a loro interessano di più. Prima fra tutti l'educazione sessuale, di cui hanno grosso bisogno, anche l'utilizzo corretto di internet, in particolare le ragazze hanno indicato il tema della parità di genere, ma c'è anche un consistente numero, oltre della metà del campione, che dice che anche una lettura attenta e consapevole della Costituzione sarebbe una buona cosa da fare a scuola. Quello che potremmo indicare, tenete presente una cosa, il 64% degli adolescenti teme la guerra, con tutto quello che sta succedendo tra Palestina, Ucraina, eccetera. Teniamo presente che è probabilmente, anzi certamente direi, la prima generazione di adolescenti dal dopoguerra ad oggi che annovera tra i suoi pensieri quello di una guerra. Nessuno di noi ha mai pensato che potessimo essere coinvolti direttamente in una guerra. Ecco, questo indubbiamente non facilita certamente il loro stato d'animo, non facilita la fiducia nel futuro. Ecco, quello che direi è che agli adolescenti manca un'agenda futura. Già l'età tende a schiacciarsi sul presente, ma in queste circostanze sembra proprio che il futuro non abbia niente di positivo da dire. Quindi quello che noi potremmo e dovremmo fare è proprio cercare di invertire le cose, cioè essere in grado di ridare loro quella fiducia che hanno perso. Però l'hanno persa anche per i nostri comportamenti, quindi è un po' il cazzo che si morde la cosa. Ecco, diciamo che c'è una percentuale di responsabilità degli adulti. Questo è un dato di fatto. Professor Tucci, la ringrazio per essere stato con noi, come sempre per la chiarezza nell'esposizione e per la semplicità con la quale ci racconta dati e numeri. Adolescenti in una società incerta, questi i dati. Abbiamo parlato appunto di questa interessante indagine sugli stili di vita degli adolescenti, edizione 2024, realizzata appunto annualmente dal Laboratorio Adolescenze e dall'Istituto di Ricerca IARD. Qualora ci fossero altre notizie dal mondo adolescenziale o da commentare, perché no, altre notizie di questo genere, naturalmente torneremo a chiamarla, ad approfittare della sua disponibilità. Grazie di cuore e buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi e volentieri ci rivediamo se ci sono appunto novità. Speriamo positive. Speriamo positive, ha ragione. Grazie per aver concluso anche appunto con questa nota positiva. Allora, noi ci fermiamo, andiamo di nuovo in pubblicità. Restituisco la linea alla regia per poi cambiare decisamente argomento e parliamo di musica. Lo faremo con il maestro Luciano Pompilio. State con noi.